Buonasera Abruzzo, dal capoluogo le notizie di martedì 22 settembre dall'Aquila e dalla Regione. Speciale lezioni amministrative Abruzzo 2020, risultati sindaci e ballottaggi. Avezzano sarà sfida a due, Di Pangrazio contro Tiziano Genovesi. L'Aquila, donna investita in zona Torrione, è grave. L'Aquila matrice ripresi i lavori del quarto lotto della superstrada. Pettino, residenti denunciano un nuovo ricovero per migranti. Per tutte le altre notizie www.ilcapoluogo.it Dal capoluogo, buona serata.